Drama questa mattina in via del lavoro a Rosà, dove un 80 tenne di martellago ha perso la vita, annegata all'interno di un canale. Stando ad una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta attorno alle 8. Per causa ancora in corso di accertamento, la donna è caduta all'interno del canale di scolo che affianca la dita a Famir, dove il corpo senza vita dell'80 tenne è stato trovato attorno alle 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A loro arrivo la testa dell'anziana era ancora sott'acqua, mentre il corpo era bloccato da una griglia. Sul posto anche i carabinieri di 9 e il personale del 118.